8 10 10 9 gira le carte ho vinto di un volo hai il poker? cos'hai? all in all in all in all in all in fuggi pensare hai puntato tutto lui non ha mai puntato così è vero che lui non ha mai puntato così? è vero è vero signori e signori Italia è l'ultima si deve rischiare l'ultima io ho rischiato cosa devo fare? ho fatto male a temporizzare